Matteo Metti, Capitano della Nazionale di Scherma Paralimpica, intanto con quale spirito e con quale ospici vi ha apprezzato a cominciare questa avventura europea? Ma guarda, siamo tutti che ci alleniamo da diverse settimane, siamo pronti, siamo orgogliosi di tornare un'altra volta dopo un anno in Italia, ancora in Italia a difendere le medaglie che abbiamo preso al Mondiale di Roma. Questo è un appuntamento importante che anticipa le qualifiche per Tokyo, ma adesso l'attenzione è tutta concentrata su questi campionati europei. La scherma italiana, anche quella paralimpica, dopo l'altra scherma si conferma uno degli sport di eccellenza, quindi avete una grande responsabilità. Sì, ecco, ma comunque siamo in Italia, siamo abituati a dover sempre essere un passo davanti a tutte le altre nazioni, nel nostro sport siamo il top e cerchiamo di confermarlo. Questa struttura di Terni come l'avete trovata? Guarda, noi ci siamo andati solamente oggi a fare il primo allenamento nella struttura che ci ospedirà per i campionati europei e l'abbiamo trovata eccezionale. L'allenamento che abbiamo fatto nei giorni precedenti è stato di massimo livello, quindi sicuramente Terni è pronta per questi due eventi. Ecco, questi risultati, diciamo, sensazionali, mi definirei così, quanto aiutano nel movimento della scherma anche magari per far avvicinare ai bambini, diciamo, lo sport che resta di nicchia, non? Sì, devo dire che per quanto riguarda i ragazzi non votati, la scherma dopo le Olimpiadi c'è sempre un boom di iscrizioni. Fortunatamente anche dopo le Paralimpie di Rio è successo anche per quanto riguarda la scherma paralimpica.